Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Erboristeria La Ninfea. Oggi tratteremo del principio attivo dell'ananas, che è la bromelina, ricavata dal gambo di ananas. Questa è della linea della Centofiori, in capsule vegetali per una più facile assimilazione. La bromelina ha una duplice funzione, quella digestiva, perché va a scindere e dunque a dividere le proteine e i singoli amminoacidi, che sono i componenti delle proteine, sono più facilmente digeribili a livello intestinali, ma anche la funzione diuretica. Dove c'è gonfiore e edema, la bromelina ha un'azione antinfiammatoria, dunque non solo a livello degli arti inferiori, come ad esempio pesantissà alle gambe, problemi al microcircolo, ritezione idrica e cellulite, ma anche nei vari distretti del corpo. Come dosaggio sono una capsula per due volte al giorno, presa prima del pasto, a stomaco vuoto, ha un'azione diuretica. Se noi la prendiamo dopo il pasto, invece, ha un'azione più che altro digestiva. Questa della linea della Centofiori, appunto, sono in capsule vegetali, facilmente assimilabili. Se non si riescono a prendere o a deglutire, si possono tenere un po' in bocca, in modo tale da sciogliere completamente la capsula vegetale, oppure si possono aprire. Mi raccomando, seguite Erboristeria La Ninfea sul canale YouTube, ma anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati.